2000 persone si sono rivolte agli sportelli di SOS Turista, 900 pratiche aperte per contenziosi, diffidare dei prezzi stracciati, il consiglio di Feder Consumatore. Cambiamo argomento con l'avvicinarsi della stagione turistica, tanti iniziano a prenotare le vacanze, ma le brutte sorprese sono dietro l'angolo. Come evitarle? I consigli nel servizio di Giorgio Maria Leone. Nell'ultimo anno 2000 persone si sono rivolte agli sportelli di SOS Turista, con 900 pratiche aperte soprattutto per contenziosi nei confronti di compagnie aeree, tour operator e albergatori. La prima regola, spiega Feder Consumatore, è quella di diffidare dei prezzi stracciati. Nella competizione sulle tariffe molti turisti si affidano a piattaforme telematiche che non offrono alcuna tutela. Il nostro consiglio è quello di rivolgerci esclusivamente a quei portali che prevedono la possibilità di restituzione, delle somme versate, integrale o parziale, e che abbiano un ruolo nel caso di contenzioso. Attenzione all'offerta telefonica di buoni per vacanze omaggio, che puntualmente si rivelano impossibili da prenotare, ma chi aderisce si ritrova comunque vincolato ad una successiva offerta commerciale a pagamento, come la vacanza a lungo termine, novità di quest'anno con l'obbligo di versare periodicamente centinaia di euro di iscrizione a un club. Di solito si riceve una telefonata in cui si è invitati a partecipare a un evento, in un albergo, e qui parte, diciamo così, la truffa, tra virgolette, perché effettivamente si firma un contratto e questo consulente viene a casa e ovviamente ti invoglia ad acquistare, a versare un importo, anche ingente, perché parliamo di 15-20 mila euro, per avere poi degli sconti sulle prossime vacanze fino al 2050. Restano numerosi casi di caparre sostanziose versate per vacanze inesistenti o di turisti che si sono ritrovati in un garage anziché in una villa al mare. Quando il luogo è diverso da quello pubblicizzato è necessario documentarlo con fotografie per aprire il contenzioso in tempi brevi.